Clamorosa l'operazione che la Juve ha messo in campo per portare a Torino il nuovo talento inglese. Ancora una volta giuntoli mette la firma nella creazione di una Juve sempre più forte. Guardate tutto il video per conoscere questo talentuoso gioiello. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, per non perdervi altri contenuti come questo. Agnelli un giorno ha detto, arriveremo a comprare altri Ronaldo, ma in età più giovane, nel fiore degli anni. E questo sta avvenendo. Un giovane talento proveniente dall'Arsenal Academy, e attualmente in prestito allo Swansea City, 20 anni di età, questo ragazzo sta attirando l'interesse di tutte le big d'Europa, grazie alle sue prestazioni di alto livello. E la Juve, tramite i suoi osservatori, ha fatto per prima le sue mosse. E presto metterà a segno quest'altro grandissimo colpo, per creare una Juve sempre più forte. Seguite il video fino al termine per conoscere di chi stiamo parlando. Il giovane centrocampista, cresciuto come un vero piccolo Gunners, ha trascorso un periodo in prestito al Blackpool la scorsa stagione, e ora si sta facendo notare giocando per lo Swansea City nella Football Division, la seconda divisione inglese. L'Arsenal, la sua casa madre, ha deciso di cederlo temporaneamente per favorire la sua crescita. Gli scout della Juventus hanno assistito alla sua ultima prestazione in FA Cup contro il Morecambe, una partita che ha visto brillare il gioiello inglese. Nel corso del match, ha segnato un gol con un preciso tiro di sinistro, contribuendo al successo finale per 2-0 della sua squadra. Il suo stile di gioco, caratterizzato da un sinistro potente e preciso, ha attirato l'attenzione degli osservatori bianconeri. Con 4 gol e 5 assist in questa stagione, Charlie Patino sta dimostrando di essere un talento versatile a centrocampo. La Juventus sembra interessata a garantirsi i suoi servigi, consapevole che il suo valore di mercato potrebbe aumentare rapidamente. Attualmente valutato intorno ai 10 milioni di euro, il centrocampista Mancino rappresenta un potenziale investimento per il futuro della squadra bianconera.